Il presidente della Repubblica, Mattarella, Udine, in visita all'istituto frequentato da Lorenzo Parelli, lo studente morto a 18 anni, a causa di un incidente nell'ultimo giorno di un percorso duale tra scuola e lavoro. Basta morti assurde, la morte di Lorenzo è una ferita profonda, detto Mattarella, che ha incontrato i genitori e la sorella del ragazzo e i compagni di classe. La sicurezza dei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Grazie a tutti.